ciao sono il dottor max in questo video ti spiego quali sono i sintomi della neurisma cerebrale una neurisma cerebrale è una sacca un rigonfiamento deboli in una delle arterie nel cervello può essere presente per anni senza causare sintomi e spesso viene scoperto incidentalmente durante esami medici per altre condizioni tuttavia in alcuni casi una neurisma cerebrale può diventare un problema grave e sviluppare sintomi in casi estremi scoppiare causando una grave emorragia cerebrale ecco alcuni dei sintomi che possono verificarsi in presenza di una neurisma cerebrale cefalea improvvisa intensa questo è uno dei sintomi più comuni quando una neurisma cerebrale inizia a causare problemi la cefalea è spesso descritta come la peggiore cefalea della vita e può verificarsi improvvisamente rigidità del collo una neurisma cerebrale che si ha rotto può causare una rigidità del collo simile a quella associata alla meningite questo è dovuto all'emorragia nel cervello dolore o visione offuscata alcune persone con una neurisma cerebrale possono sperimentare dolore o alterazioni nella vista come visione offuscata doppia vista paralisi o debolezza una neurisma cerebrale che si è rotto può causare paralisi o debolezza in una parte del corpo spesso su un lato difficoltà nella parola o problemi di linguaggio alcune persone possono avere difficoltà a parlare o problemi di linguaggio a seguito di una neurisma cerebrale confusione o cambiamenti nella coscienza una neurisma cerebrale che si è rotto può causare confusione perdita di coscienza o coma nausea e vomito questi sintomi possono verificarsi a causa dell'irritazione del cervello dovuta all'emorragia problemi di coordinazione o equilibrio alcune persone possono sperimentare difficoltà nell'equilibrio o nella coordinazione dei movimenti è importante sottolineare che molti aneurismi cerebrali non causano sintomi prima della rottura ed è per questo che spesso vengono scoperti casualmente durante esami medici di routine o diagnostici tuttavia se si sospetta la presenza di un aneurisma cerebrale o se si manifestano sintomi improvvisi e gravi come una forte cefalea o difficoltà nella parola è fondamentale cercare immediatamente assistenza medica di emergenza un aneurisma cerebrale rotto è una condizione potenzialmente letale che richiede un intervento medico immediato per prevenire danni cerebrali gravi o la morte grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata